La piazza sanitaria si è arrivato in cerchita del ministero di isolamento. Chi si è allagata? Chi oggi è? Perché ovviamente l'esplosione dei casi immagino abbiamo andato in ultimi minuti tutt'ora. Tutti, sì. E siamo già all'occhio del vostro notizio, perciò, 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 perciò. Anche alla luce di questa ultima osservazione, in tutti questi casi, che per l'occhio, perciò, 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 perci E poi il figlio può uscire tranquillamente. Esatto. E ad Alessia, possiamo dire che da Giade i soggetti vaccinati con cui il pazzo era portato non hanno neanche necessità di fare in testa. Non li vedo, li legati in casa. Poi questi positivi che hanno il discorso, perché lì fa il caratteristico di votare, non c'è dubbio. Giovanni, come sempre ti ringrazio molto. Grazie per il tuo lavoro per essere stato buon giorno di questa sera. Giovanni Rodriguez, quotidiano Sanità, Il Foglio e altri giornali con cui collaboro a Setteguardo puntualmente sulle questioni che ha detto alla pazzo. Setteguardo. 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 Tutto sull'acqua. Io sei un inglese dell'alto sa